lucio caracciolo lucio caracciolo l'ucraina la federazione russa lucio caracciolo tutti sanno chi è lucio caracciolo è uno dei migliori analisti politici italiani ma di livello internazionale dirige la grande rivista limes limes io invece sono solamente questo signore qua eccomi qua questa è una breve nota bio bibliografica che riguarda serafino massoni e qua sotto il guarda caso c'è pure la stella di david vedi lucio caracciolo accanto a serafino massoni troverai sempre la stella di david lucio caracciolo guarda 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 questa è la mia ultima opera lucio caracciolo la mia ultima opera la cometa dell'imperatore lucio caracciolo è un romanzo storico ambientato ai tempi tra il 1200 e il 1250 dopo cristo ai tempi del grande imperatore federico secondo di svevia hohen stauffe in alta villa imperatore del sacro impero romano germanico è il tempo delle crociate il tempo della grande eresia cataro albigese bene 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 io mi sono presentato lucio caracciolo io ho seguito con molto interesse il tuo ultimo intervento me l'ha offerto il tuo ultimo intervento la grande vetrina di youtube perché quando io voglio conoscere le ultime notizie vado sulla grande vetrina di youtube e la grande vetrina di youtube mi ha offerto il tuo ultimo intervento e l'ho molto apprezzato il tuo ultimo intervento lucio caracciolo sull'ucraina sulla federazione russa eccetera e il tuo ultimo intervento io io lo metto come linea riassunto di questo video così tutti coloro che mi seguono possono ascoltare il tuo ultimo intervento nella sua anterezza però c'è un passaggio del tuo ultimo intervento che io lo devo criticare lucio caracciolo lo devo criticare capito mi dispiace lucio caracciolo ma lo devo criticare va bene sentiamo questo ultimo passaggio del tuo ultimo intervento sentiamo sentiamo e sentiamo più chiaro di così è difficile io sono un ungherese che è scappato dal potere sovietico quindi esattamente non la penso proprio come la può pensare putin però se io non cerco di entrare nel suo modo di pensare che cosa posso spiegare ecco ecco lucio caracciolo ecco ecco tu tu hai fatto riferimento a un signore a un signore che ai tempi del della della urs della urs di jose stalin insomma è scappato è scappato via è scappato via e questo signore dice che è scappato via dalla urs di jose stalin è chiaro che non la può pensare come come vladimir putin no 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 lucio caracciolo le rose non stanno così lucio caracciolo perché la federazione russa di vladimir putin non è la urs di jose stalin e di coloro che sono succeduti a jose stalin la urs la urs di jose stalin di jose stalin cadde con gorbaccio nel 1990 circa 89 1989 1980 tu lo dovresti sapere lucio caracciolo le dovresti capire queste cose l'avresti dovuto notare tu lucio caracciolo che le cose non quadrano non si può dire che che io sono scappato dall'urs di 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 stalin per cui non posso andare d'accordo con la federazione russa di vladimir putin se possono dire queste cose non si possono dire queste cose lucio caracciolo in nome di dio capito perché la federazione russa di vladimir putin non è più l'urs di jose stalin la federazione russa è uno stato capitalista o capitalistico esattamente come gli stati uniti d'america anzi ci sono più ricconi più ricconi oligarchi nella federazione russa di vladimir putin che non negli stati uniti d'america dove troneggia il dollaro capito capito perché non le hai dette queste cose perché non le hai dette queste cose lucio caracciolo io sono affino massoni sono qua sono qua capito per per aggiustare le situazioni non puoi dire queste cose io sono qua per correggere per correggere tutto tutto ciò che 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 deve essere corretto sono qua apposta lucio caracciolo sono qua apposta hai capito non puoi dirle queste cose lucio caracciolo capito lucio caracciolo questo signore qua che che tu hai fatto parlare è è cosa devo pensare io di questo signore che mette sullo stesso piano la urs di joseph stalin e dei successori con la federazione russa di vladimir putin che sono due rose diverse perché la urs la urs è cascata nel 1989 1990 ai tempi di michele gorbaciov sono passati 30 anni sono passati 30 anni capito ora la federazione russa di vladimir putin è uno stato capitalista o capitalistico alla stessa stregua del regno del dollaro degli stati uniti d'america capito e poi e poi vogliamo andare fino in fondo lucio caracciolo vogliamo andare fino in fondo alla situazione lo vedi che ti ho fatto vedere prima io te l'ho fatta vedere la stella di david lo sai cosa vuol dire stella di david lucio caracciolo o te lo devo spiegare io lucio caracciolo la stella di david perché non dici nei tuoi talk show televisivi perché non dici che la stella di david la stella di david non ha mai mandato non manda e mai manderà al mia lucraina perché non le dici queste rose e ciò benché lo stato di israele sia uno strettissimo alleato degli stati uniti d'america perché non le dici queste cose dille queste cose capito lucio caracciolo io sono sul web per correggere gli errori lucio caracciolo e siccome tu hai commesso un errore un errore hai commesso lucio caracciolo cioè non sei intervenuto a precisare la situazione dovevi dirlo questo signore che io sto citando non si rende conto che la urs di jose stalin e successori non è la federazione russa dei vladimi putti dovevi dirle queste rose e allora le dico io non avendo non avendo le dette tu lucio caracciolo le dico io serafino massoni capito che sono questo qua senti lucio caracciolo io ti voglio tanto tanto bene capito per cui se tu lucio caracciolo mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale io serafino massoni che sono questo signore qua io ti farò pervenire a mie complete spese postali una copia di questo mio romanzo storico che sta per andare in tutte le libere italiane e te lo farò pervenire con la mia dedica hai capito lucio caracciolo a te lucio caracciolo a tutti voi che mi state auscultando tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore saluti Grazie.